Buongiorno a tutte e a tutti da Salvorus in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vado ad andare verso il mio posto di lavoro verso il mio negozio in azienda informatica a Siracusa da 1999 e chiunque o le sedine di metroepo venga tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Il sabato sulla mattina e la domenica chiuso per riposo settimanale. Oggi 20 dicembre 2023 è anche l'ottava di Santa Lucia per cui per festività. Oggi pomeriggio il mio negozio rimarrà chiuso. Quindi potrete venirmi a trovare stamattina dalle 9.30 alle 13 e di pomeriggio appunto chiuso. Dopodiché ci rivedremo domani mattina. Per ogni informazione commerciale potete mandarmi un messaggio Whatsapp H24, altre 4710 97484 dove vi chiedete informazioni su quel prodotto e sulle modalità di ordine. Succede molto spesso, non ne parlo mai del mio lavoro, ma stamattina voglio iniziare da qui. Stamattina una signora mi ha mandato un messaggio, un profumo, lo vorrei ordinare, come fare? E io gli ho mandato il link, quando arriva? E guarda signora basta aprire il link e si accorge che comodamente gli arriverà il prodotto a casa, avrà i diritti che gli acquisti online hanno, tra cui il diritto del recesso. Amazon in questo momento ad esempio dà la possibilità di fare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio, quindi un grandissimo periodo di reso. Garanzie uniche che solo l'online ti può dare. Ma non voglio fare polemico oggi, perché ieri ho fatto un post perché cercavo un edicolo a Siracusa e ho avuto una serie di commenti a non finire mai. Molto spesso molte persone commentano senza sapere chi sono i propri interlocutori e questo per me è molto grave perché fai brutte figure. Quando una persona mi dice, ah ma lei dovrebbe sapere chi sono io, cosa è il mio business, nel mio lavoro, di cosa mi occupo e poi magari scrivere boiate. Va bene, va bene, perché si fa brutta figura. Allora, ritorniamo sul core. Quindi oggi ottava di Santa Lucia. Cosa vi posso dire? Beh, intanto parto dal ringraziare. Ringraziare molte persone, mi dicono di cambiare il nome di questa rubrica e chiamarla, anziché in viaggio con Salvorusso, chiedilo a Salvorusso. In che senso? Ieri sono arrivate tantissimi messaggi, segnalazioni dal manto stradale di fronte alla questura totalmente, incredibilmente malmesso fino alle condizioni pessime del cimitero. Qualche mattina farò una qualche diretta dal cimitero, vediamo un pochettino. Poi cos'altro? Ho trovato una determina. In questa determina è scritto nel rosubianco quanto stanno costando le luminarie in questa città. Siamo circa a 140.000 euro. Voi cosa ne pensate? In base alle luminarie presenti in questa città, 140.000 euro secondo voi sono una spesa che ne vale la pena. Che vi posso dire? Poi una delibera di giunta dove ho notato che il Comune di Siavuta spenderà quest'anno circa 140.000 euro per villaggi di Natale, eventi e quant'altro. Poi, poi, poi. Un bando, attenzione, incredibile, ogni tanto anche dei bandi. Un bando per la realizzazione del Capodanno e dello spettacolo, credo del giorno dopo ci sarà sicuramente un evento musicale, un concerto o quant'altro. Un bando da 40.000 euro circa, se non ricordo male, 45.000 euro. Però non del contenuto dell'evento Natalizio, no, no, solo luci, service e quant'altro. Non c'è, quantomeno ad oggi non risulta nessun tipo di bando pubblico per capire come verrà fatto il Capodanno in questa città. Ci sarà l'ennesimo affidamento nell'ultimo minuto? Vedremo, vedremo, vedremo. Va bene, poi tantissimi messaggi, ripeto, voglio ringraziare e salutare tutti, coloro che quotidianamente mi mandano un messaggino, che sia di semplice buongiorno fino a tutta una serie di idee e iniziative che poi porteremo avanti quando sarà il momento della campagna elettorale, non adesso. Purtroppo molte cose, poi ovviamente io non sto solamente parlando di via Mineo, anche se in realtà ne ho parlato tantissime volte in passato. Le polemiche su via Mineo sono ovviamente comprensibili, purtroppo non si potrà fare poco o nulla se non nel momento in cui si chiederà nelle giuste stanze la direttiva dove ci sarà la necessità di motivi superiori della forza pubblica e allora poi tutti quegli obbrobi di piste ciclabili vedremo in un modo o nell'altro come farle togliere. Per adesso purtroppo bocche cucite da parte dei nostri politici, vi ricordate c'erano politici che durante la campagna elettorale dicevano no, le piste ciclabili andranno via, oggi invece sono pappa e ciccia con chi ha voluto le piste ciclabili. Queste sono le promesse della politica. Vabbè, a un certo punto poi vedremo un attimino come cambiare questa città al meglio e farla a misura di cittadini, non a misura di politicanti di promesse e quant'altro. Va bene, me ne vado a lavorare. 65-66 è il codice stazione di oggi, si vincerà mercoledì 27 alle ore 20.15 un integratore messo a disposizione da un mio partner commerciale. Va bene, penso di essere stato abbastanza... penso di non aver dimenticato nulla, me ne vado a lavorare, buona giornata a tutte e a tutti i asoborussaci.